Oggi invece parleremo di un caso dove in realtà i protagonisti, quindi non tanto la Resinovic che appunto è una donna prima scomparsa e poi trovata cadavere a gennaio del 2022, però diciamo tutta l'impalcatura che gira intorno a questa donna, quindi il marito, ormai ex marito e il nuovo compagno perché c'è questa problematica di definizione con questo nuovo compagno, in realtà un amico storico che poi appunto sarebbe diventato il nuovo compagno, però ecco sia uno che l'altro, in realtà in questo caso a differenza del caso di Alice Nelli dove vi ho detto avevamo meno informazioni, qui in realtà c'è proprio un dispendio energetico importante sui media di questi due uomini che in qualche modo si fanno intervistare, parlano, raccontano, quindi comunque questo caso è diventato mediatico anche un po' per tutta l'impalcatura che c'è stata dietro. Quello che diciamo nei media viene chiamato l'amante, ma in realtà Claudio Sterpin, questo secondo uomo con cui Liliana avrebbe dovuto intraprendere una seconda vita, intendi lui, perché appunto come dicevo in apertura, a differenza di Alice Nelli questo è un caso dove invece le persone intorno a Liliana parlano molto, a partire da questi due uomini, quindi dal marito o ex, diciamo perché a quel punto pare che Liliana volesse lasciare il marito per appunto intraprendere questa storia con, ufficializzarla in realtà questa storia con Claudio Sterpin, quindi ci sono questi due parti che si contendono in qualche modo la presenza nella vita di Liliana. Allora, sì giusto hai detto bene, forse era più la parte mediatica che disturbava, è difficile credere che Liliana avesse davvero una relazione amorosa con Sterpin. Non siete le uniche due che hanno questi dubbi, nel senso che io trovo che Liliana si sia interfacciata con questi due uomini che abbiano sostanzialmente delle caratteristiche molto simili. Cioè mi sembra, non so se a voi ha dato la stessa impressione che tutto sommato si sia in una posizione di come posso dire, di volere in qualche modo apparire come importanti per Liliana, no? Quindi di proteggere più la loro, effettivamente la loro sfera personale che veramente la memoria di Liliana. Non lo so, io ho avuto questa impressione ascoltandoli, no? Quindi che poi alla fine di Liliana davvero si parli poco, no? Si parli di più quasi degli uomini di Liliana. E invece noi qua stasera parliamo di Liliana e cerchiamo insieme di capire cosa può essere successo, ma non soltanto da un punto di vista proprio pratico, perché poi in realtà nonostante tante cose si siano dette, la storia si sostanzia in tre elementi fondamentali, non di più. Quindi non è un caso che ci richiederà una narrazione lunghissima, però secondo me richiede un salto proprio di comprensione della realtà che va fatto con i dovuti occhiali giusti. No? Ci mettiamo il paio di occhiali da criminologo, il paio di occhiali da tecnico e cerchiamo di capire un po' intanto che tipo di vittima è Liliana, perché ne abbiamo parlato la scorsa settimana, no? Se volete vi recuperate poi la live su YouTube, proprio le tipologie di vittima, ok? Quindi vediamo un po' insieme anche che tipo di vittima è Liliana e soprattutto capire, no? Se effettivamente si tratta, come si è detto in un primo momento, di suicidio oppure se in questo momento si indagano per sequestro di persone e quindi anche un ipotetico omicidio. Quindi un'azione lesiva su Liliana che ha prodotto poi la morte di Liliana stessa, no? Quindi intanto io farei un passetto sperando nella buona riuscita della live, sperando che non ci siano cataclismi, sperando che le slide funzioni, sperando un sacco di cose, sperando nel bene. Iniziamo a capire un po' chi è Liliana, io qui vi ho messo una foto, non lo so, diciamo tutte le foto di Liliana sono foto dove quasi sempre c'è accanto a lei Sebastiano. Invece ne ho voluto a scegliere una completamente da sola perché come vi ho detto io non voglio parlare degli uomini di Liliana, cioè se non collateralmente perché ci interessa sapere se eventualmente qualcuno potesse aver avuto un movente per agire lesivamente contro Liliana, però in generale io vorrei parlare di lei, cioè vorrei parlare effettivamente di quello che le è capitato, ok? Quindi qui ho messo una foto di Liliana che a me fa simpatia, no? È brutto da dire, tenerezza nemmeno, però mi emana positività, ecco nel senso mi sembra una foto di una donna che in qualche modo non sapeva di andare incontro a quello che le è capitato in nessun modo. Tutto sommato Liliana è una donna che si gode la sua pensione, ok? Non è una donna che sperpera, non è una donna che ha vizi particolari, non si rimanda a un grande dispendio di denaro, non amava particolarmente fare grandi acquisti, quindi non so, cose firmate, borse, scarpe, no? Non era una donna che in qualche modo si descriveva attraverso il materiale, ok? Una donna semplice, le amiche la ricordano appunto con queste grandi gite in bicicletta, questa grande volontà no? Di stare anche a contatto con la natura, quindi una donna sostanzialmente, che definiremo la donna della porta accanto, no? La classica donna qui, magari andremo a chiedere il sale quando è finito, se no? È la nostra dirimpettaia, con cui prendiamo il caffè il pomeriggio, no? Immaginatevi così Liliana, una donna minuta poi, una donna minuta, magrolina, quindi con un peso anche ridotto, però con una grande forza d'animo, un grande animo. Che cosa succede? Un bel giorno, il 14 dicembre del 2021, scompare. Quindi poi capiremo bene quella giornata, com'è andata e quali sono gli unici elementi che abbiamo rispetto a quella giornata, però sappiamo che il 14 dicembre scompare. E non so se vi ricordate la cronaca di dicembre 2021, dove Liliana si cercava incessantemente, perché la domanda sostanzialmente era, ma dove cavolo sta Liliana? Cioè, dove è possibile che sia finita Liliana dal momento che è inverno? È uscita di casa, scopriremo senza niente, cioè documenti senza soldi e senza telefono. Tutta questa impalcatura per dire che quel 14 dicembre si allontana e non se ne sanno i motivi, cioè non lascia scritto niente, non dice niente, non avverte nessuno, esce di casa, vedremo se la vedono, se non la vedono, dove la avvistano, esce di casa e non ne fa più ritorno. Il 5 gennaio a un certo punto viene ritrovato un corpo e il cruccio è proprio se sia di Liliana. La risposta arriva ben presto perché effettivamente il 5 gennaio del 2022 ci si rende conto che in un boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, appunto abbastanza vicino a dove effettivamente abitava Liliana, comunque nei pressi, sempre nello stesso circondario, viene ritrovato il corpo di Liliana. Che cosa viene ritrovato effettivamente, come viene ritrovato il corpo di Liliana? Ah chi eccomi, sto cercando di essere il più possibile liscia sui, come si dice, sulle frasi che dicono, mi interrompo perché così ti avvantaggio il lavoro, evito di farti fare i tagli stile Iene dove devi riattaccare i pezzi mentre io saluto la gente mentre finisco un concetto, quindi cerco di fare la brava. Tra l'altro stasera ogni tanto va e viene, non la connessione, la live proprio, ogni tanto si blocca, quindi scusa avrei da fare il doppio penso perché se si blocca, so cavoli. Comunque, tralasciando questa parentesi tra Miyaki, dicevamo come è stato ritrovato il corpo di Liliana? Il corpo di Liliana è stato ritrovato in questo modo. Allora, era in posizione fetale sul fianco sinistro e è stato ritrovato inserito in due sacchi, quindi uno dall'alto e uno dai piedi, lasciando però un pezzo del busto, quindi laddove i sacchi non erano uniti, lasciando un pezzo del busto totalmente scoperto. Sotto il sacco che aveva in testa, quindi copriva, diciamo, testa, spalle un pezzo di busto, sul capo ci sono due sacchetti di nylon, tipo quelli della spesa, per intenderci, i sacchetti della spesa e al collo c'era un cordino che però non era legato stretto, era un cordino che in qualche modo teneva chiusi i due sacchetti ma che lasciava spazio, quindi non dovete immaginarlo come una roba che stringe, una sorta di, diciamo, l'accetto che serviva semplicemente a tenere legati i due sacchetti l'uno all'altro, quindi con anche possibilità di respirazione. Questo è il modo in cui viene ritrovato il cadavere, quindi sostanzialmente l'ideano è così, in posizione fetale, con le, diciamo, le mani, i pugni che in qualche modo stringono il cappotto, quindi che stringono quantomeno la parte, no, qui della, della scerniera, una modalità che poi vedremo se per proteggersi dal freddo, se è una modalità che in qualche modo sia protettiva di altro tipo, poi faremo le nostre ipotesi, quindi cercheremo di capire anche perché si trova in quella posizione. E sostanzialmente viene ritrovata in uno stato che è pressoché uno stato perfetto, questo boschetto, non immaginatevelo come il boschetto delle fate, perché è un bosco, una sorta di boschetto, diciamo, anche un po' scosceso, lei è stata ritrovata in un punto che non era visibilissimo e che era anche un po', posso dire, poco tenuto bene, ecco, se così possiamo dire, quindi in qualche modo era una condizione un po' particolare, non di certo una, un boschetto, ripeto, fatato, quindi verde, rigoglioso, e la cosa molto strana è che proprio perché non è un boschetto, diciamo, che uno ci si aspetta, è un boschetto dietro un ex ospedale psichiatrico, quindi abbandonato in qualche modo, Liliana non ha ai piedi un paio di scarpe, posso dire, usurate o sporche per come a farci intendere che lei abbia camminato in questo boschetto, quindi sembra veramente che sia stata adagiata dall'alto, cioè l'impressione che si ha quando ti trovano il cadavere è questo, cioè che sia stata quasi adagiata veramente in modo celeste dall'alto, ok? E questo fa sorgere molti dubbi, perché la primissima ipotesi che fanno gli inquirenti è sostanzialmente suicidio, onestamente da subito è parso un po' strano, quantomeno dalle modalità di ritrovamento del cadavere, ok? Che cosa dice l'esame autoptico e tossicologico? Il primo che viene fatto in prossimità del ritrovamento di Liliana. La prima cosa che si esclude è che Liliana possa aver ingerito delle sostanze che in qualche modo possano averla indotta alla morte, ok? Quindi il classico suicidio per assunzione di sostanza stupefacente o di sostanza che in qualche modo agisce sul nostro organismo in modo da causarci la morte, ok? Quindi il classico mix di barbiturici, tutta quella diciamo quella sequela di assunzioni di sostanze a carattere sicuramente pesante che combinate tra loro possono provocare scompensi o morte del soggetto, no? E che sono un po' anche classicamente le modalità che abbiamo sempre visto utilizzare da noi più noti personaggi storici, no? Pensiamo alla morte di Marilyn Monroe, alla morte di tanti rocker, no? Quindi di queste massicce o perdose di farmaci, psicofarmaci stupefacenti che in qualche modo provocano la morte. In questo caso di Liliana si esclude proprio da subito che possa aver raggiunto la morte attraverso l'assunzione di sostanze di nessun tipo. Vi dico che sono state fatte delle analisi su mille addirittura sostanze, non su 4 o 5, mille sostanze. Nessuna ha dato esito positivo che sostanzialmente l'esame tossicologico ci dice che Liliana non è morta per un'assunzione massiccia di sostanze. Né massiccia né piccola, cioè proprio non si rilevano all'interno dell'organismo di Liliana nessuna traccia di sostanza che sia xenobiotica, che sia droga o che sia farmaco. Nel corpo di Liliana sono state trovate tracce però di caffeina, teobromina, uvette, sostanze appartenenti al complesso della vitamina B6, una aspirina e una tachepirina. Che cosa vuol dire questo? Allora, intanto, poi questo lo spiegheremo tutto e entreremo nel dettaglio, però cerchiamo di capire questo primo esame autottico. Che cosa ci sta dicendo? ci sta dicendo che in qualche modo Liliana ha mangiato poco prima di morire. Perché? Perché il contenuto gastrico di Liliana, cioè nel corpo di Liliana, è stato trovato appunto cosa sostanzialmente? Una esatto teobromina cioccolato, quindi sostanzialmente sembrerebbe aver mangiato un pezzo di panettone, quindi con gocce di cioccolato e uguetta, ok? Quindi un pezzo di panettone. Non beveva caffè, ma di solito beveva tè, quindi il tè può far ritrovare segnali sia di teina che di caffeina. E sostanzialmente un aspirina e una tachepirina, ma anche un multivitaminico, perché tutta quella roba del complesso della vitamina B6 vuol dire che aveva assunto un multivitaminico. Sostanzialmente aveva fatto colazione e cosa ci fa capire che ha fatto colazione proprio il giorno in cui è morta? Perché il contenuto gastrico di un essere umano ha anche un tempo di macerazione, cioè il modo in cui io lo trovo, quindi il fatto che sia più o meno macerato, più o meno scomponibile, più o meno integro, diciamo che con il passare del tempo, perché sappiamo che i succhi gastrici poi fanno proprio questo, cioè macerano il contenuto in modo da scomporlo e assimilarlo. Quindi sostanzialmente che cosa succede? Che proprio da questo contenuto gastrico noi sappiamo che Liliana è morta circa quattro ore dopo aver assunto questa serie di alimenti. Quindi nel momento in cui la ritrovano, cerchiamo di slegare questi due passaggi, nel momento in cui la ritrovano, quindi il 5 di gennaio, succede che comprendono che il giorno in cui è morta, non sappiamo ancora quando è, ma il giorno in cui è morta, aveva mangiato quattro ore prima. Ora è da capire quando è morta tra il 14 dicembre e il 5 di gennaio che viene ritrovata, ok? Quindi perché sapete che quando una persona decede poi chiaramente il contenuto gastrico rimane sempre lo stesso, quindi se io lo trovo chiaramente dopo cinque giorni dalla morte comunque io vedrò le stesse cose perché non c'è più quell'attività gastrica di assimilamento, assimilazione, come vuoi chiamarla, di quello che ho, il contenuto che ho assunto, che ho ingerito, il cibo che ho ingerito. Quindi primo elemento è che noi sappiamo che il giorno della morte Liliana quattro ore prima aveva mangiato, ok? Questo è un primo punto. tra l'altro abbiamo detto non ha assunto droghe, non ha assunto farmaci, non ha assunto farmaci, almeno chiaramente trovano aspirina e tachipirina, ma non farmaci tali da cagionare la morte, cioè la tachipirina o l'aspirina non cagionano la morte, sono farmaci da banco tra l'altro, quindi comunemente reperibili. Bisogna vedere, secondo me, se Liliana assumesse l'aspirina per qualche, effettivamente per qualche motivo, anche se si, diciamo, notizie, ma poi bisognerebbe vedere bene se eventualmente ci sono cartelle cliniche di Liliana, non aveva mai fatto particolari accertamenti dal cardiologo, quindi sul cuore. Quindi su questo mi sentirei di non poter dare una risposta circa il perché assumesse aspirina e tachipirina. Quello che succede è che, che però, cosa dice l'esame autoptico? Che l'aspirina e la tachipirina sono state ritrovate solo nelle urine, quindi probabilmente assunte in un momento ancora precedente, perché già espulse. Perché voi sapete bene che le urine sono in qualche modo un materiale di scarto, no? Nel senso, filtrato, quello che troviamo all'interno delle urine è molto diverso da quello che troviamo all'interno dello stomaco. Quindi è possibile che siano state assunte in un momento precedente, mentre all'interno dello stomaco c'era il multivitaminico, che è stato assunto probabilmente con la colazione. Dobbiamo immaginare una Liliana che ha fatto colazione col panettone e il tè e si è preso al suo bel multivitaminico. Quando? Dobbiamo capirlo. Però questo sostanzialmente è il quadro che vi dovete immaginare di quella mattina. Poi, l'autopsia inoltre aveva stabilito inizialmente che la donna era morta per scompenso cardiaco. In un primo momento si dice questo. Scompenso cardiaco. Scompenso cardiaco acuto che però non coincide con assunzione, abbiamo detto, di farmaci perché al di là di aver trovato nelle urine tagliperina e aspirina, quindi nelle urine vuol dire che avevano già fatto il loro corso, il loro processo era già finito perché chiaramente già espulse praticamente nei materiali di scarto del nostro corpo, che sono le urine e quell'altra cosa che facciamo tutti, noi donne alle volte facciamo l'arcobaleno, però in generale avete capito. Quindi, questi due materiali di scarto ci dicono che le sostanze sono state processate dal nostro corpo, ok? Quindi non dobbiamo immaginare che Liliana quella mattina sia presa il multivitaminico, il panettone, il tè, l'aspirina, la tachipirina tutto insieme. Sappiamo solo che in momenti diversi di queste fasi di vita lei ha assunto queste cosine qui. Non è morta per assunzione di farmaci o droghe o sostanze particolari, ma non è morta nemmeno per traumi da mano altrui atti a giustificare il decesso. Quindi non sono stati trovati traumi né da armi contundenti, né da lesività, da aggressività personale, divisità personale, non so immagino calci, pugni e quant'altro, violenza personale, né da arma da taglio, quindi non c'erano ferite evidenti di nessun tipo. Un'attacca successiva confermerà che non ci sono eventi traumatici a carattere quantomeno di frattura. Quindi non c'è nessun osso del corpo che sembra aver subito qualche tipo di colpo tale da giustificare la morte. Si era sostanzialmente fratturata il naso in un momento antecedente di vita, ma la frattura si era già ricomposta da tempo, quindi era paradossalmente una frattura antica, non coerente o comunque che non c'entrava niente con la morte. Quindi, allora, aspettate che devo andare avanti con le slide, perfetto. Cosa è successo, quindi sostanzialmente cosa credono che sia successo con questo tipo di quadro? Ok? La prima cosa che pensano gli inquirenti è suicidio. Ok? Quindi la primissima considerazione che fanno è che Liliana sia uscita di casa in predato uno stato probabilmente alterato di coscienza perché è uscita di fretta, senza prendere niente, senza portare niente con sé, senza avvertire nessuno. Non si capisce bene quando, in quale momento, come, dove si sia procurata sacchi e resto da chi se li siamo procurati e si sia andata ad adagiare in questo boschetto cagionandosi la morte. Quindi si è messa questi due sacchetti in testa, si è legata al cordino, poi si è messa il primo sacco in testa da sopra, poi si è messa, o forse prima si è messo quello da sotto, poi si è messo quello da sopra, si è chinata sul fianco sinistro ed è morta così. Ok? Quindi questa è la prima ipotesi. Tra l'altro vi devo dire che non è neanche quella che è stata abbandonata prima perché tuttora comunque una delle ipotesi più valide è quella suicidaria. Cosa fa quel 14 dicembre l'Iriana, perché è importante ricostruire bene che cosa succede. Quel 14 dicembre, la mattina, poi vedremo bene ora per ora, diciamo, l'ora che riusciamo a recuperare, ma sono poche perché in realtà poi sono le ore scandite dalle telefonate, dalla telefonata che fa l'Iriana a Claudio Serpino e da quelle che fa a Claudio Serpino quando la vede arrivare sostanzialmente. Quindi l'Iriana Desinovich la mattina della sua scomparsa aveva un appuntamento con Serpino, appuntamento che in realtà aveva come scopo quello di sostanzialmente di essere un po' un prequel diciamo a quello che sarebbe stato un viaggio che avrebbero fatto di lì a pochi giorni, anzi circa quattro giorni dopo diciamo dal 14 dicembre, quindi avrebbe dovuto trascorrere questo weekend insieme. E tra l'altro quello era proprio il momento storico in cui Liliana avrebbe reso ufficiale proprio questo rapporto con Claudio Serpino, lasciando il marito. Ok? Quindi su questo siamo abbastanza concordi sul fatto che quanto meno Liliana avesse questa simpatia con questo Serpino e questo ce lo dicono anche i messaggi che Serpino avrebbe portato a testimonianza del loro rapporto. Uno dei tanti sarebbe stato per esempio questo mentre lei era a fare, diciamo era a casa di questi amici, c'era un pupazzino che diceva, c'era una frase d'amore e sostanzialmente appunto diceva alla fine ti amo e lei avrebbe mandato questa immagine a Sterpino proprio nonostante il marito fosse con lei, quindi Sebastiano fosse con lei, però va a significare che Liliana ormai esprimeva questo sentimento abbastanza direttamente a Claudio Sterpino. Poi chiaramente queste sono tutte testimonianze che noi abbiamo da chi resta. Liliana non può parlare, non ci può dire se queste cose sono vere o no. Quindi noi dobbiamo anche fare uno sforzo, un attimo critico di credere o comunque di, se non si vuole credere, di immaginare quello che è il modo in cui si potrebbero essere approcciati. Quindi sembra appunto che tra i due ci fosse questa relazione, lasciamo questo sembra perché ripeto ce lo racconta Claudio e appunto sembra che questa relazione soppianterà ben presto la relazione coniugale. Questo è un elemento che è stato considerato forse centrale come ipotetico movente. Il corpo di Liliana Resinovich abbiamo detto non ha nessun segno di violenza, non ha percosse, non ha tracce di abuso sessuale, nulla che fa pensare ad un omicidio. Perché immaginiamo che quando raccontiamo di un omicidio, ma questo lo vediamo banalmente in tutti i crimini che ci raccontiamo, c'è sempre un'attività allesiva aggressiva, c'è sempre un'aggressione in qualche modo sulla vittima, no? Di qualsiasi tipo, che sia col proprio corpo, che sia attraverso un'arma contundente, un'arma da taglio, un'arma da fuoco, ma spesso e volentieri c'è un'attività aggressiva o lesiva. Se non c'è un'attività aggressiva o lesiva ci può essere, come nei più noti magari angeli della morte, somministrare farmaci, somministrare sostanze, no? Veleni. Qui non c'è niente, non c'è né l'azione lesiva aggressiva né tantomeno l'assunzione di qualsiasi sostanza. Quindi pensare ad un omicidio in questo momento iniziale ci fa fatica, fa fatica agli inquirenti, dicono ma noi come lo possiamo giustificare un omicidio, no? Se sembra una causa naturale, perché sembra uno scomperso cardiaco avuto. Però la domanda che uno si pone è, ma perché se Liliana avesse deciso di suicidarsi avrebbe scelto questo metodo? È un metodo un po' particolare, nel senso che non è che si sente tutti i giorni diciamo di suicidi che avvengono col sacchetto in testa. È una modalità che in letteratura esiste, l'ipotesi che ci si possa uccidere col sacchetto in testa non è totalmente avulsa dalla realtà. Però la modalità scelta da Liliana e tutto quello che ha fatto Liliana diciamo nel circondario di quelle ore inerenti alla morte, suona strano, suona male. Poi tra l'altro, ripeto, non c'è una bisaglia, non c'è neanche una possibilità da parte di chi resta di pensare che effettivamente avrebbero potuto cogliere dei segnali, perché delle volte uno non li vuole vedere e dice no, non è possibile. Magari anche davanti a lettere di addio importanti, magari si arriva a pensare non l'ha scritta lui. In questo caso non c'è veramente niente, cioè Liliana quella mattina si muove in maniera totalmente normale, ma quella mattina come la sera prima, come i giorni precedenti. Quindi è vero che non è sempre, voglio dire, l'abbiamo detto l'altra volta, il suicidio non arriva sempre dopo un dolore profondo, un visibile star male necessariamente. Può avvenire anche da persone da cui meno te lo aspetteresti. Però in questo caso proprio non è che non te lo aspetti, è che proprio non ci sono i segnali. Le scarpe le aveva pulite, cadute dal cello, le hanno messe nei sacchi. È quello che ho detto all'inizio, cioè sembra quasi che sia stata taggiata in modo celeste dall'alto, che sia arrivata lì quasi volando. Però vediamo, perché poi queste considerazioni devono trovare un nesso logico nella ricostruzione criminologica. Quindi gli inquirenti, appunto, proprio venendo al nostro discorso, si fanno due domande e dicono ma non è che ce l'hanno portata dopo che era morta, quindi l'hanno adagiata lì in una fase successiva e non è morta lì. E quindi qualcuno si è coinvolto nella sparizione, cioè dal 14 dicembre al 5 gennaio, no? Intanto capiamo quando è morta in questi giorni. Secondariamente, se non è morta al giorno stesso, come c'è arrivata lì, chi ce l'ha portata e soprattutto dove è stata? Perché se non è morta al giorno stesso deve aver trascorso dei giorni da qualche parte. Quindi ci sono una serie di domande. gli inquirenti credono appunto che il cadavere a quel punto ce lo abbiano portato, sostanzialmente. Dice, non è morta lì? Non è morta lì perché se fosse stata dal 14 dicembre al 5 gennaio in quel boschetto l'avremmo ritrovata totalmente decomposta, cosparza di larve o di insetti, perché l'entomologia ci racconta anche il periodo di morte, da quanto è morto un soggetto, da quanto è lì, da quanto si trova lì. Le colonie hanno anche una tempistica di riproduzione, la larvazione ha una propria tempistica in base chiaramente al tipo di larva. Quindi se io tengo un corpo a 15 giorni circa in un boschetto di dicembre, quindi comunque non era una temperatura rigidissima ma fredda, alle intemperie, addirittura aveva piovuto quei giorni, quindi tutto sommato lo trovo completamente devastato. Trovo un corpo sostanzialmente decomposto. Mentre Liliana è perfettamente integra, vestiti integri, non ci sono tracce di decomposizione, ovvero questo lo vediamo bene dopo, ma tutto ci racconta che Liliana pare essere veramente stata calata dall'alto. Andiamo per gradi, il marito, ovvero Sebastiano Vicentino, figura controversa, perché da subito gli inquirenti ovviamente si soffermano su quanto riferisce lui, perché poi le notizie di come era vestita Liliana, del fatto che avesse lasciato tutto a casa, di quello che doveva fare, di come si doveva muovere, ce le dà sostanzialmente a Sebastiano. Stesso uomo che chiaramente fa la denuncia di scomparsa, vedremo soltanto alle 22 di quel 14 dicembre, e dove descrive esattamente come è vestita Liliana, quindi noi le informazioni ce le abbiamo sostanzialmente da Sebastiano. Sebastiano, 72 anni, il giorno della scomparsa di sua moglie è andato a ritirare dei coltelli in alcuni supermercati e alcune pescherie del centro, perché appunto è un ex fotografo che però ha un laboratorio dove affila lame. Ok? Ora, se fossimo in un film, noi ci saremmo immagino, e se volessimo dare la colpa sicuramente a Sebastiano, no? Avremmo detto, magari avremmo trovato un corpo con 10 coltellate, 20 coltellate, Sebastiano affilare le lame, eccolo là, uno più uno fa due. Qui invece sostanzialmente non abbiamo nessun legame, no? Dal punto di vista proprio strettamente logico, perché sembra che in qualche modo nelle ore in cui, teoricamente, Liliana sparisce, lui si è a fare i suoi affari fuori casa. Verso mezzogiorno di quella, di quel 14 dicembre, secondo chiaramente sempre la ricostruzione di Sebastiano, è andato a fare un giro in bicicletta perché voleva provare questa nuova GoPro che si era comprato. Allora, diciamo che la figura di Sebastiano risulta controversa anche perché dà un sacco di versioni, più che un sacco, diciamo che la versione è sempre la stessa, però ogni tanto sembra credere alla possibilità del suicidio, ogni tanto sembra dire no, non è possibile, non l'avrebbe mai fatto, quindi diciamo che in qualche modo non è proprio lago della bilancia, cioè dà questa impressione di essere poco attento, poco anche oculato nelle informazioni da fornire alla stampa e soprattutto si lascia intervistare praticamente in ogni dove, mostrando anche secondo me un lato abbastanza egocentrico di sé, perché voglio dire, tralasciando che è morta tua moglie e che chiaramente tutto quello che tu fai, si spera tu lo faccia per cercare una verità, la modalità con cui fornisci informazioni, ti fa intervistare e ti muovi nei media ovviamente può far sorgere dei dubbi, quindi il pubblico, la gente che guarda da casa è portata a farsi delle sue considerazioni e a considerare Sebastiano come una figura controversa. In un primo momento abbiamo detto fornisce delle informazioni che poi sembrano mutare, ma questo vi ripeto io l'ho notato come un atteggiamento abbastanza facente parte del suo modo proprio di esprimersi, perché in un primo momento non dice o comunque non fa riferimento a supermercati e pescherie dove sarebbe andato appunto a ridirare questi coltelli per affilarli. Abbiamo detto, il marito soggetto controverso, stesso, stessa controversia, stessa sensazione ce la dà anche il caro Claudio Sterpin, ovvero appunto considerato diciamo amante, anche se la parola amante a me non piace perché in realtà era abbastanza noto a tutti, noto e più anche a Claudio stesso a quanto pare, scusatemi a Sebastiano stesso a quanto pare che ci fosse questa simpatia nei confronti di Claudio, quindi non era proprio un segreto. E questa relazione clandestina, diciamo tanto clandestina non era più, perché poi Liliana aveva proprio quel giorno deciso di sostanzialmente lasciare il marito per andare addirittura a vivere con Claudio Sterpin, quindi in qualche modo di ricominciare una vita che fosse una vita che avesse scelto effettivamente lei, come una sensazione quasi di libertà, cioè faccio questo passo che può sembrare un po' un passo azzardato ma che per me significa appunto libertà. Una vita a questo punto, arrivata anche a 63 anni, quindi non più una ragazzina, una donna che in qualche modo vuole godersi questo nuovo amore. Aveva appuntamento con Claudio Sterpin, avrebbe dovuto trascorrere con lui il weekend, quindi tutto faceva presagire che quella giornata fosse una giornata estremamente positiva, cioè io esco per andare da quello che diventerà il mio nuovo compagno, sono super felice, sto prendendo in mano la mia vita, sto lasciando la mia vecchia esistenza che non mi aggrada più, che non mi fa sentire più appagata, non riesco a immaginare un motivo per cui proprio quel giorno Liliana doveva uccidersi. Tra l'altro ragazzi, ricordiamoci che Liliana fa colazione col panetto nel tè, se prende il multivitaminico. Una persona che si vuole uccidere non si prende cura di sé, ok? Perché non deve dimostrare niente a nessuno. Io non mi prendo il multivitaminico se 40 minuti dopo, 50 minuti dopo, due ore dopo, esco di casa e mi vado ad adagiare in sacchi di plastica per morire. Cerchiamo di restare un po' anche coerenti con quelli che sono i movimenti di un essere umano, no? È vero che il suicidio è comunque un atto estremo, è vero che non sempre arriva dopo un'attenta pianificazione, perché ci sono delle caratteristiche dei funzionamenti di personalità dilompenti che prevedono modalità suicidarie anche che arrivano dal nulla. Però, ripeto, un soggetto borderline a basso funzionamento che ha uno scompenso psicotico o che in qualche modo agisce a un suicidio per autolesionismo, per atto dimostrativo, perché in quel momento ha quella sensazione del fuori di sé, come diceva prima Limor, dà dei segnali. Una personalità così non nasce a 62 anni, ok? Non è che di botto a 62-63 anni diventi borderline, ok? Oppure diventi psicotico. Ci sono delle avvisaglie. Ripeto, se parliamo di strutture di personalità, addirittura ci sono tutta una serie di strutture interne che si solidificano nel tempo. Addirittura ci sono dei disagi che con l'età si affievoliscono invece che incentivarsi o strutturarsi ancora di più. Ci sono per esempio dei disturbi che all'avanzare dell'età subiscono una regressione paradossalmente invece di intensificarsi. Non è sempre vero, ma può succedere. Quindi voglio dire, cerchiamo di restare un po' ancorati al dato di realtà. È abbastanza inverosimile che una donna che sta pianificando di andare a vivere con il suo compagno, che vuole slegarsi da una relazione che non la soddisfa più, che la mattina fa colazione col palettone, il test prende il multivitaminico, poi tutto te botto. Gli prendano i 5 minuti e si vada ad uccidere in una modalità che non è l'hanno trovata gettata da un ponte, l'hanno trovata con in corpo una quantità eccessiva di barbiturici, ma l'hanno trovata ranecchiata in un boschetto, inserita in sacchi di plastica e tacchetti in testa che non erano neanche legati a sufficienza per poterle permettere una sfissia importante. Ok? Quindi, ripeto, poi ognuno si può fare l'idea che vuole, ci mancherebbe. Però cerchiamo anche un po' di restare ancorati al dato di realtà. Quindi, l'ultimo che teoricamente avrebbe dovuto vederla era Claudio, ma lei da Claudio non ci arriva mai, perché che cosa succede quella mattina? Sostanzialmente, alle 8.20 Liliana chiama Claudio per avvertirlo che tarderà un po', perché a quanto pare Liliana doveva passare al negozio della Wind. alle 8.45, quindi 8.20, chiama Claudio, parla con Claudio, gli dice guarda, tardo un po'. E Claudio dice era normale, abbiamo fatto una conversazione normalissima, non era strana. Mi ha solo detto arrivi un po' più tardi, perché devo fare questa commissione. 8.45, quindi 25 minuti dopo questa telefonata, Liliana viene avvistata da una signora che fa la fruttiviendola e che dice che Liliana andava a passo svelto. La vede passata, dice sì sì, la riconosco, è proprio lei, so che è lei, perché la conosco. e la vedo che passa proprio a passo spedito, in modalità sostenuta, anche un po' trafelata e va verso, diciamo, nella direzione opposta a quella di casa, come se quindi appunto fosse uscita di casa. Alle 9.30 il fratello di Liliana gli scrive un messaggio, a cui Liliana non risponde. Alle 10.30 e poi successivamente alle 11.30 Claudio chiama Liliana perché non la vede arrivare, dice ok, vabbè, ma ha detto che tarda un pochino, vabbè, ok, però mi sembra un po' troppo, no? Alle 10.30, poi alle 11.30 e fino a fatto e la chiama due volte. Niente, Liliana non risponde. A un certo punto, a mezzogiorno, Claudio richiama. Ma a quel punto la chiamata viene attaccata, cioè, diciamo, non è che risponde Sebastiano, ma chiude la chiamata. Però comunque c'è un'attività, quindi non squilla a vuoto come le prime due volte. Perché diciamo che è Sebastiano che la chiude? Perché Sebastiano, vi ricordate che a mezzogiorno torna a casa, dà tutti i giri che fa e si rende conto che vuole prendere sta GoPro per andare a fare un giretto in bicicletta, no? Per provare la GoPro. È proprio il momento in cui si rende conto, tornando a casa, dice lui, che sul tavolo della cucina c'erano telefono e documenti di Liliana. Ciao Joachim, benvenuto. Documenti, telefono. Dice lui che i soldi erano regolarmente in casa, avevano un posto in casa dove tenevano dei contanti e i soldi erano tutti lì, quindi era uscita sostanzialmente senza denaro, senza soldi e senza indumenti personali, perché poi è tutto in casa, quindi trova tutti gli indumenti personali di Liliana in casa, però dice che Liliana esce con una borsa, ha con sé una borsa a tracolla. Una domanda che viene fatta spesso a Sebastiano è come faceva a sapere che aveva questa borsa se non l'ha vista uscire. Ci vorremmo rispondere che sapendo quali borsi ha la moglie, avrà visto che mancava quella in casa e quindi ha supposto che sia uscita con quella borsa lì. Un'altra cosa che fa è descrivere gli indumenti con cui era vestita Liliana, ancora una volta se non l'hai vista come fai a sapere come era vestita. Anche lì ovviamente so che vestiti indossa mia moglie, so se manca un maglione piuttosto che un altro, oppure banalmente prima di uscire di casa ho visto i vestiti sulla sedia, poggiati sulla sedia, l'ho visto perché era già vestita quando sono uscito. Sono tantissime le risposte, non è necessariamente, cioè vi faccio questa considerazione perché non dobbiamo subito saltare alle conclusioni. Ci ha dato un'informazione che non poteva sapere perché non l'ha vista, automaticamente vuol dire che sa come è vestita perché l'ha uccisa lui. Diciamo che questo lo può fare magari un non addetto ai lavori perché non ha la responsabilità di dover provare un nesso causale tra informazione ed evento, nel mio caso questo tipo di considerazione devo lasciarla fuori il più possibile, questo tipo di approccio personale all'opinione che mi posso fare con un'informazione. Ok? Perché purtroppo, o per fortuna anzi direi, questo mestiere ti impone di far coincidere il dato di realtà con la logica. Ok? Quindi io devo poter agganciare logicamente ai dati le mie ipotesi. quindi diciamo che è strano sicuramente il movimento di Sebastiano di sapere esattamente tutte queste informazioni, ma può essere coerente col fatto che essendo sposati da una vita potesse tranquillamente sapere le abitudini di come si veste la moglie o come esce di casa la moglie, con quale borsa esce. Che succede? Quindi alle 12 Claudio richiama, a questo punto Sebastiano ha il telefono di Liliana e il momento in cui decide di fare la denuncia di scomparsa, quando è alle ore 22, quando è sollecitato da due amici di famiglia che gli dicono, Sebastiano scusami però, Liliana è uscita stamattina, fratello non gli risponde, a Claudio non gli risponde, tu non riesci a recuperarla ma sta nonna dove sta? Vabbè magari poteva pure non voler parlare con te, ma è strano che non risponda a nessuno quindi va a fare questa denuncia di scomparsa, dice espressamente che la sta facendo ma che avrebbe potuto evitare perché non era la prima volta che non si comunicassero spostamenti quindi tutto sommato il fatto che Liliana non l'avesse avvertito neanche gli destava tanto sospetto e onestamente a me questo comportamento più che sapere come era vestita mi fa riflettere e soprattutto dice che ha lasciato appunto cellulare, documenti, denaro ma con sé una borsetta e le chiavi di casa, ok? Quindi sostanzialmente Liliana con sé ha una borsetta ma a quanto pare è vuota perché non c'è stanno i documenti, non c'è stanno il telefono, non c'è stanno i soldi, c'è una borsetta vuota con le chiavi di casa che cosa, aspettate che, ok, ho cambiato slide da una parte invece che dall'altra quindi che cosa succede a questo punto? dall'avvistamento alle 8.45 della fruttivendola che dice, l'ho vista, che camminava a passo sostenuto nella direzione opposta a casa, noi Liliana la rivediamo il 5 gennaio da morta, ok? Quindi il momento in cui ritorniamo a vedere Liliana è già quando non è più in vita. L'autopsia che è la cosa che sostanzialmente, prima Mary diceva una cosa importante perché diceva ci possiamo fare un sacco di idee, possiamo immaginare che lei sia morta al giorno in cui è scomparsa, però ci dobbiamo attenere a quello che dice l'autopsia e l'autopsia dice una cosa certissima, cioè è molto puntuale sul quando è morta Liliana. Che cosa ci dice l'autopsia? L'autopsia delinea che Liliana è morta nella posizione in cui l'hanno trovata, quindi la posizione in cui ritrovano Liliana è quella in cui è morta, sottolino questa cosa qui perché che cosa vuol dire? Vuol dire che non è morta perché hanno agito su di lei in modo lesivo-aggressivo, l'abbiamo detto, non ha niente, non ha nessun segnale che ci faccia intendere che qualcuno l'abbia aggredita, né fisicamente né sessualmente, ok? Era in posizione fetale con le mani che erano strette a tenersi il giubbotto, quindi immaginatevi un corpo in posizione fetale con entrambe le mani che tengono il giubbotto qui ad altezza del petto, ok? Non si rilevano nessun tipo di stranezza tra vestiti e corpo, quindi sostanzialmente vestiti integri, puliti, corpo pulito, scarpe pulite, non c'è niente che fa intendere che sia stata per 20 giorni dentro un campo, l'orologio che ha il polso è integro, il che vuol dire che non ha sbattuto, non è caduta, i due sacchi coprono testa e busto e un pezzo di gambe lasciando tutta una parte centrale di busto libera, ha chiaramente il cappotto come si abbiamo detto, cioè lei ha giubbotto, sotto è vestita esattamente come si vestiva sempre, pare avesse una felpa rossa, un paio di jeans, questa tracolla, aveva una borsa a tracollo, ok? Questa borsa pare fosse vuota sostanzialmente perché come abbiamo detto prima tutto è rimasto a casa e in tasca del giubbotto ha le chiavi di casa, ma quale chiavi di casa ha? Non ha le chiavi di casa primarie, ha le chiavi di riserva, un paio di chiavi che lei non usava mai, che dicono appunto non usasse mai. Le prime chiavi di casa, quindi la copia originale, diciamo quelle che notoriamente usava maggiormente, non sono mai state ritrovate, quindi l'unica chiave che viene ritrovata è sostanzialmente quella di riserva, dove viene ritrovata? in tasca al corpo di Liliana, al giubbotto di Liliana. Che cosa dicono le condizioni della Salma? Sostanzialmente ci dicono che è morta tra le 48 ore e le 60 ore prima del ritrovamento. Vediamo insieme se abbiamo capito questa condizione. Liliana muore tra le 48 e 60 ore prima del 5 gennaio. Che cosa vuol dire? Che è morta intorno tra il 2, forse più il 3, tra il 2 e il 3 gennaio. Ok? L'altra informazione che abbiamo è che 4 ore prima di morire si è mangiata il panettone e si è bevuta il tè con multivitaminico. Però noi abbiamo un'altra informazione sconcertante perché Liliana è sparita il 14 dicembre. Dove è stata Liliana dal 14 dicembre al 3 gennaio? Punto di domanda gigante. E se è stata da qualche parte, perché io immagino che qualcuno di voi mi possa dire, vabbè, è morta intorno al 14 dicembre e poi l'hanno congelata. Che cos'è che ci dice da quanto è morto un corpo? Quando il medico lega... non so se avete mai sentito quella roba in tv che è il rigor mortis. Che cos'è il rigor mortis? Sostanzialmente è la rigidità cadaverica. Che cosa succede quando un corpo decede? Succede questa prima fase di irrigidimento che parte dalla testa ai piedi. Quindi ci irrigidiamo mano mano partendo dalla testa e poi pezzo pezzo fino ai piedi. Poi dopo un certo numero di ore e di giorni, anche in base alle condizioni in cui siamo lasciati come corpi, che cosa succede? Succede un processo inverso di rilassamento. Quindi c'è prima una rigidità cadaverica sostanzialmente che si muove sempre... perché diciamo sempre è morto tra le 48 e le 60 ore? Perché ha una stima, ok? Questo rigor mortis diciamo si muove su una linea temporale con una stima di circa più o meno ore, ok? Quindi che succede? Che l'iliana viene ritrovata in che modo? In quale fase di questo rigor mortis? Non nella fase iniziale, quindi che dalla testa ai piedi ci irrigidiamo. Ma al contrario, cioè si sta rilassando il corpo dalla testa, cioè dal collo sostanzialmente. L'anatomo patologo rileva sul corpo che c'è questa inversione di rigor mortis che è naturale, sta accadendo. Quindi vuol dire che sono passati dalle 48 alle 60 ore perché l'iliana si sta... il corpo di l'iliana si sta rilassando di nuovo. Ma si sta rilassando... è arrivato come processo al collo, ok? Quindi... e tralasciando che se io congelo un corpo posso effettivamente porre un freno al rigor mortis? Ma in questo caso l'iliana non è stata congelata, ok? Quindi che cosa vuol dire? Che non c'è ad oggi in letteratura un modo conosciuto per bloccare un rigor mortis. È un fatto naturale, ok? Non si può indurre. Questo vuol dire che l'iliana deve essere necessariamente morta in quelle ore perché quel rigor mortis si stava rilassando, quindi vuol dire che abbiamo una tempistica in cui possiamo far entrare l'omicidio o la morte, facciamo così, la morte, ok? Perché se parlassimo di suicidio sarebbe comunque diciamo avvenuto in quelle ore lì, ma non possiamo immaginare che l'iliana stia in quel campo dal 14 dicembre, ok? Perché altrimenti qualcuno del settore ci dovrebbe in qualche modo spiegare com'è possibile che questa donna, a questa donna sia stato in qualche modo bloccato in modo artificiale rigor mortis, senza il congelamento ovviamente, a meno che non si voglia ribaltare totalmente la perizia del medico legale, comunque in realtà quella non è una perizia perché queste informazioni sono date dal medico legale che arriva sulla scena e tra l'altro non si possono riprodurre, cioè non possiamo a posteriore fare delle analisi su questo. Il rigor mortis è un fattore totalmente umano naturale che parte, arriva, quindi si sostanzia, si rigerisce e poi il corpo si rilassa, fine. Quindi quello che ha detto l'anatomo patologo su quel rigor mortis resta questo, non possiamo fare nessun tipo di analisi aggiuntiva, ok? Su questo bisogna anche un po' essere pacifici e rendersi conto che l'informazione è questa. Chiaramente l'autopsia ha in qualche modo avvalorato questa ipotesi perché effettivamente ci racconta di un corpo totalmente integro, quindi che avallerebbe l'idea che non è possibile che sia stata lì per 15 giorni, 20 giorni in un campo a morire. Quindi non c'è presenza di traumi fratturativi, non c'è presenza di feriti da taglio, non c'è nessuna risultanza tossicologica, l'abbiamo detto e lo ripetiamo, sembra che Liliana veramente sia morta dal nulla, ok? La salma è integra e perfetta. La TAC conferma tutte le considerazioni che aveva fatto la prima analisi anatomo patologa, scusate il termine un po' controverso e so le 11, quindi conferma sostanzialmente tutte le considerazioni fatte in prima battuta attraverso la classica autopsia, attraverso l'analisi del corpo, almeno anche l'esterno. E che cosa dice? Questa consulenza definitiva fa un po' un passetto in avanti rispetto all'attacco cardiaco acuto, allo scompenso cardiaco acuto, perché dice che sembra che ci sia stato un fenomeno asfittico di lieve entità, cioè ci sia stato un soffocamento, ma non come ce lo aspetteremo, cioè non c'è stato un soffocamento provocato da un evento impattante come possiamo immaginare, un sacchetto tenuto premuto sul collo, due mani che stringono il collo, il tappamento generale delle vie aeree, ok? Così come ce lo immaginiamo noi, perché quello produce all'interno degli organi vitali una serie di segni, ok? Banalmente i fenomeni asfittici si vedono anche da dei piccoli segnali negli occhi, ok? Quindi si riconosce, oltre che banalmente in certi casi all'ossoioide, quindi ci sono una serie di segnali che ci rimandano a quale tipo di fenomeno asfittico, quindi se è uno strangolamento, se è un soffocamento, quindi una serie di, se è un annegamento per esempio, no? Perché si tappano le vie aeree ma con l'acqua, quindi ci sono diverse modalità con cui il corpo reagisce a diversi fenomeni asfittici, ma reagisce, quindi in realtà produce determinate conseguenze agli organi interni, ma anche esteriormente, ok? Quindi banalmente si vede anche per esempio all'analisi del bulbo curare. Che cosa succede in Liliana? Liliana sembra riportare un fenomeno asfittico, lieve, lievemente sfumato, cioè lieve, di lieventità. E adesso cerchiamo di capire anche che cosa vuol dire, cosa potrebbe essere successo. Liliana è morta, soffocata, ok? Ma in che modalità? In una modalità molto particolare. Perché? Sembrerebbe che Liliana, quando è stata posizionata in quella, è stata messa in quella posizione, quindi non sappiamo se nel boschetto o se, quindi, è stata portata nel boschetto pochi giorni dopo, scusami, pochi giorni prima del ritrovamento, già morta o se sia morta poi una volta arrivata nel boschetto, ma stati quando che Liliana abbia avuto questo scompenso cardiaco, provocato probabilmente da un'agitazione importante. Immaginiamo, non so, una discussione brutta, un litigio finito in una sorta di aggressione, magari verbale, uno spavento importante. Immaginatevi questo, no? Qualcuno che pressa sotto pressione, ha uno scompenso, quindi comincia in qualche modo a sentirsi male, ha un mancamento, il cuore che batte spaventato, sviene magari, ok? Sembra quasi morto, cioè possiamo immaginare che un soggetto si trova davanti una Liliana svenuta, in crisi, che magari sembra respirare a fatica, in una condizione di emergenza e che invece di chiamare i soccorsi, o pensa che Liliana è già deceduta e quindi si sbarazza del corpo, oppure finisce di, diciamo, in qualche modo produrre e cagionare la morte a Liliana. E quindi, sa bene che facendo, posizionandola in quel modo e che quel sacchetto, seppur non stretto a morte, provocherà il soffocamento di Liliana. Perché è vero che doveva immaginare che Liliana aveva modo di respirare da quel sacchetto, ok? Perché effettivamente non era legato stretto, i due sacchetti di nylon. Però immaginiamo che aveva anche un altro sacco in testa nero e che soprattutto, probabilmente, era in uno stato di incoscienza. O, se si era in uno stato di coscienza, non era in grado di reagire. Quindi, non era legato, non ha segni di legatura a mani e piedi, quindi non era neanche costretta. Però, immaginate avere due sacchetti di nylon, pur se non chiusi, sempre comunque due sacchetti di nylon, un sacco della spazzatura in testa e provare a respirare. È probabile che se siamo già in crisi respiratoria, se abbiamo già un affaticamento importante, questo boccheggiare produrrà un soffocamento, perché a un certo punto l'ossigeno in quella busta finirà. Ok? Quindi, sostanzialmente, si paventa questo tipo di ipotesi. Un decesso per una asfissia lieve, quindi una roba che non è prodotta da un'asfissia meccanica, cioè il cuscino in faccia, le mani al collo, la corda. Quella è un'asfissia prodotta meccanicamente, mentre un'asfissia di lieve entità, che viene probabilmente da un momento già importante di un corpo che non sta più bene, che sta subendo un'emergenza respiratoria o un'emergenza cardiaca. Due ipotesi, no? Allora, una l'ipotesi, abbiamo detto, di suicidio. Per quanto scomoda come ipotesi, non la possiamo totalmente togliere dal quadro, perché, vi ripeto, vi devo dire che la modalità del sacchetto, seppur non statisticamente rilevante, però è usata. Ok? È già successo, non è così, non rilevante. Però, quello che ci fa storcere il naso non è tanto il fatto che ci si possa uccidere col sacchetto, perché poi il quadro asfittico coincide con la possibilità di asfissiata sacchetto, ma le modalità distorte con cui poi avrebbe deciso di porre fine alla propria vita. Una modalità che non lascia spazio neanche a delle spiegazioni. Una donna come Liliana, dedita all'ordine, dedita al dettaglio, una donna integerrima, che comunque viene ricordata come una donna integerrima, ci rimane veramente complicato pensare che non abbia voluto lasciare neanche una parola a nessuno, se non al marito, all'uomo che diceva di amare, al fratello, se non ai due uomini che se la contendono, no? E soprattutto, ripeto, una donna, un uomo, una persona che si vuole uccidere, non si prende cura di sé prendendosi un multivitaminico. L'altra ipotesi è appunto la morte a seguito di un malore. La questione malore è rimasta necessariamente con qualcuno in quel lasso di tempo. Cioè, ragazzi, non possiamo far finta che dal 14 dicembre al 5 gennaio Liliana sia stata completamente da sola. Cioè, sembra veramente che lei abbia vissuto questi giorni in una totale tranquillità. Non aveva perso peso, ok? Non ha perso peso Liliana. Non era denutrita. Ce lo dice anche il fatto che lei mangia, si prende il multivitaminico. Cioè, quello che non ci torna e quindi o dobbiamo totalmente sconfermare l'analisi di un professionista che ci dice che Liliana è morta 48-60 ore prima, ma non è tanto il problema del professionista, è il rigor mortis. Cioè, qui il problema non è dire che il perito non ci capisce niente. Perché il perito il rigor mortis non se lo può inventare. O c'è o non c'è. O lo rileva o non lo rileva. La temperatura corporea non se la può inventare. Quindi, se il rigor mortis era in quella fase lì, quindi, l'abbiamo detto, in una fase successiva in cui dalla testa ai piedi e si stava rilassando dalla testa, quindi necessariamente quel rigor mortis significa che è morta 48-60 giorni prima. Noi dobbiamo per forza fare i conti e farci la domanda più grande che è dove è stata Liliana, con chi è stata Liliana dal 14 dicembre al 2-3 di gennaio. Ma io direi anche al 5 di gennaio perché probabilmente in quel boschetto c'è stata portata successivamente. l'abbiamo a direttamente.